Quattro giorni e poi sarà l'Aquila-Prato, andata di gara 1 dei play-off di seconda divisione, occasione unica per il Rosso-Blu di agganciare quella finale che potrebbe valere il salto di categoria. Due almeno i motivi per centrare al fattore la vittoria. Primo, i Toscani sono stati protagonisti insieme al Carpi della messa in scena all'ultima giornata. L'1-0 dell'ex pescarese Varricchio, minuto 97 suonato come una beffa per il Chieti e Stromesso, e anche per il Rosso-Blu, scavalcati in classifica proprio dal Prato. che grazie a questo risultato avranno il ritorno in casa. Secondo, l'Aquila questa stagione ha sempre perso contro i rivali di domenica. Due sconfitte su due, zero reti realizzate, cinque quelle subite. Fu proprio il 3-0 del lungo Bisenzio, prima giornata di andata, 29 agosto 2010, a incrinare le prime certezze della gestione bitetto, terminata a marzo. Il ritorno al fattore il 16 gennaio non fu migliore, 0-2, Pagliuca e Tafi, tutto nel primo tempo. Domenica però sarà tutta un'altra storia. L'Aquila è nel suo momento migliore. Nelle ultime sette uscite ha collezionato cinque vittorie e due pareggi. I toscani fuori casa, almeno nella parte centrale del ritorno, hanno avuto un rendimento deficitario. Prima dei blitz con Giacomense e la spaggiata Villa Cidrese, quattro stop esterne di fila contro San Marino, Bellaria, Fano e Carrarese. Gli uomini più pericolosi? Pagliuca, centrocampista, 32 anni. Due anni e mezzo a Prato, ma un curriculum lungo così. 18 presenze e un gol in A. Perugia, 52 presenze in B, tra Trieste, Catania e Cesena. Il brasiliano Silva Reis, classe 1986. Max Vieri, fratello meno famoso di Bobo. Attaccanti, esattamente come il già citato Varricchio. Anni 35, ma di gol 89 tra B e C. Insomma, quanto basta per cominciare ad avere un quadro più nitido di una squadra che Bellini schiera con un 4-5-1? Pazzagli in porta, linea difensiva formata da Sacenti, Lama, De Agostini e Malomo. Centrocampo in cui agiscono Fogaroli, Gori, Zagaglioni, Pagliuca e l'esterno destro di scuola Milan, Schenetti, più una punta di riferimento in attacco, prevalentemente Vieri. Domenica, gara 1 in Abruzzo. Arbitra Francesco Borriello di Mantova, assistenti di Vuolo di Castellammare di Stabbia e Pentangelo di Nocera Inferiore.